Il Global Seed Vault è un luogo di sicurezza e conservazione per i semi di gran parte delle piante esistenti. Un ardisco organico, con i codici per ricostruire il patrimonio botanico del pianeta. La maggior parte delle culture più importanti della terra è conservata in un edificio costruito all'interno di una montagna di roccia arenaria, nelle isole Svalbard, a circa 1200 chilometri dal polo nord. 130 metri sopra il livello del mare, così da garantirne la sicurezza anche in caso di scioglimento dei ghiacci artici. Una capacità di stoccaggio di 4.500.000 semi, nessun personale permanente, tre sale blindate, capaci di resistere alla collisione di un aereo o a un conflitto nucleare. La temperatura è mantenuta tra i meno 30 e i meno 20 gradi centigradi dalle unità di refrigerazione. In caso di guasto, l'ambiente artico impedisce alla temperatura interna di salire oltre i meno 3,5 gradi centigradi, garantendo la sopravvivenza dei semi per almeno 50 anni nel caso dei più deboli, come semi di girasole e fino a 2.000 anni nel caso dei semi più resistenti, come il grano. Digitalis purpurea ha salvato la vita a milioni di cardiopatici. Catarantus roseus fa sopravvivere l'80% dei bambini affetti da leucemia. Il riso spama ogni giorno circa 3 miliardi e 500 milioni di persone. Le piante producendo ossigeno tengono in vita gli oltre 7 miliardi di abitanti del pianeta e i miliardi di altri esseri viventi del regno animale. Il riso spama ogni giorno circa 30 miliardi di abitanti del pianeta e i miliardi di abitanti del pianeta. Il riso spama ogni giorno circa 30 miliardi di abitanti del pianeta. Il riso spama ogni giorno circa 30 miliardi di abitanti del pianeta. Il riso spama ogni giorno circa 30 miliardi di abitanti del pianeta. Il riso spama ogni giorno circa 30 miliardi di abitanti del pianeta. Il riso spama ogni giorno circa 30 miliardi di abitanti del pianeta. Il riso spama ogni giorno circa 30 miliardi di abitanti del pianeta. Il riso spama ogni giorno circa 30 miliardi di abitanti del pianeta. Il riso spama ogni giorno circa 30 miliardi di abitanti del pianeta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.